buongiorno a tutti allora magliettina come sempre con gli stemmini dell'Army Air Force con tanto di scrittina ve la metto lì in sovraimpressione così almeno potete magari stoppare il video e poi fare la traduzione di quello che c'è scritto qui detto questo bando alle ciance ciancio alle bande andiamo a vedere come è andata questa Europa League pazza 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 c'è stato un risultato che veramente esageriamo proprio balanga di gol eccetera ma infatti si è partito subito bene martedì la prima partita è finita 0-5 che era quella tra la squadra lussemburghese del Progress e il Willem secondo squadra olandese poi c'è stato l'Ammarby che è preso tre scoppolette dall'Hedge Portland e infine un bel pareggiotto proseguito anche nei supplementari tra il B36 e il The New Saints squadra gallese e alla fine però dopo i tempi supplementari ecco come al solito non ho guardato i calci di rigore adesso vado a recuperare i calci di rigore perché come al solito ho segnato 2 a 2 dopo i tempi supplementari se non erro ha vinto il B36 stavolta sono sicuro beh dai non vi sto a dire ha vinto il B36 e calci di rigore se ho sbagliato rifarò il video veniamo invece alle partite di giovedì giovedì il Nicosia è andato a spettinare il Kaiser rifilandogli quattro pappine 4 a 1 infatti è finita il Rosenborg è andato a disintegrare letteralmente il Bempils per 5 a 1 invece l'Aiduk Spalatono tranquilli 1 a 0 è sufficiente ha vinto 1 a 0 contro il Renova il Renova è... poi c'è stata... eh beh perché se non c'è la partitona con tanti gol non c'è gusto la Rarata ha pensato bene di fare 3 a 3 col Fola e alla fine ha vinto 4 a 3 dopo i tempi supplementari ecco anche questa era abbastanza una sorpresa relativa perché alla fine è passato il turno la squadra che ci si immaginava ma ai tempi supplementari altra sorpresina la Stana che mi perde in casa col Podgorica ha perso 0 a 1 in casa col Podgorica non me l'aspettavo francamente però così è stato il Granada scoppolette quattro scoppolette al test al Teuta al Teuta 4 a 0 al Teuta senza nessun problema i Rangers sono andati a Gibraltar a fare una passeggiata con Lincoln vincendo 5 a 0 il Kups ha fatto 0 a 0 con lo Slovan Battisava sono andate i supplementari ha fatto 1 a 1 ai tempi supplementari e alla fine ha mandato a casa lo Slovan Battisava 4 a 3 ai calci di rigore quindi passano i finlandesi il Botosani ha perso con lo Skendija 1 a 0 e anche questa non me l'aspettavo che la squadra Moldava penso Macedone Macedone andasse a vincere contro una squadra rumena invece lo Skendija ha vinto il Bodoglin squadra norvegese ha rifilato tre pere allo Zalgiris è finita 3 a 1 il Riterai ha preso 5 scoppolotte dallo Slovan Liberec 5 a 1 è finita il Lokomotiv Plovdiv ha comunque venduto cara alla pelle anzi stava anche vincendo contro il Tottenham che ha vinto in rimonta si vede che Mourinho si è incazzato e sono entrati in campo con un attimino più di garra stesso discorso del Copenhagen che è andato a vincere in rimonta sul Gotteborg 2 a 1 il Gadatasaray ha vinto abbastanza agevolmente 3 a 1 col Nefci squadra dell'Azerbaijan il Flora squadra Estone ha battuto il Reykjavik 2 a 1 l'Olimpia Ljubljana che anche questa non me l'aspettavo mi ha perso con lo Zrinischi per 3 a 2 partita 1 a 0, 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2, 3 a 2 eccetera rimbalzini di qua e di là la Dinamo Tiblisi non si è sprecata 1 a 0 Alkonnas con gran fatica stesso discorso della squadra svedese del Jurganden che ha battuto semplicemente 2 a 1 la squadra di Gibilterra Europa in riga deve giocare domani, venerdì mattina col Trefiori perché la partita è stata rinviata era iniziata, l'hanno interrotta quindi venerdì mattina alle 10 questo vi dimostra quanto gli frega alla UEFA di queste partite di anticipo di preliminari di Europa League cioè giocare alle 10 del mattino veramente non ho parole proseguiamo con Libernian che mi perde con Fervaro 1 a 0 ma ci stava il Berceva che va a vincere in rimonta 2 a 1 con Lassi se non ricordo ma anzi 2 a 1 il CSKA Sofia mi batte 2 a 0 il batte Borisov e diciamo che era una sorpresa che mi aspettavo mi ero giocato l'1-2 lo Sfintur Georg perde 1 a 0 col Partizan Belgrado quindi anche il Partizan non è che si spreti più di tanto stesso discorso dell'Apollon che vince 1 a 0 con l'Ofi Creta la Lokomotiv Tbilisi batte 2 a 1 la Dinamo Mosca questa è una bella sorpresona la squadra Georgiana che mi batte la squadra russa il Maccabi Haifa batte 2 a 1 il Kairat mi stava anche perdendo se non ricordo male l'Inter e Scalda la squadra di Andorra perde 1 a 0 con la squadra irlandese del Dundalk il Drita la squadra kossovara va a vincere contro il Silek squadra macedone il Milan vince di scioltezza 2 a 0 contro lo Shamrock Rovers e aspetta nuovi avversari il Plast batte l'Arberg per 3 a 2 in una bella partita piena di avanti in 3 Bulturume il Kukes prende 4 pere dal Vosbur ma quello era abbastanza scontato il Rioave fa una fatica immonda per eliminare il Bora squadra appunto Bielorussia penso BHI penso sia Bielorussia Larissa Lonik perde contro il Kovalivka squadra ucraina per 2 a 1 in casa clamoroso lo Standalliegi batte 2 a 0 il Bala vabbè non avevamo non avevamo dubbi il Miura batte Larus e io mi aspettavo invece che vincesse Larus e questo per me è stato abbastanza una sorpresa Laberdin va a vincere in casa del Viking squadra norvegese 2 a 0 il Colerain pareggia 2 a 2 col Motterwell finiscono 3 a 0 però i rigori per la squadra scozzese quindi meno male che si giocava a porte chiuse perché Nord-Irlanda Scozia mamma mia non so cosa sarebbe successo il Linfield perde clamorosamente contro la Floriana squadra maltese 1 a 0 e non me l'aspetto ci sta e ci mancherebbe perché tra Nord-Irlanda e Malta non è che però mi aspettavo che i Nord-Irlandesi contro i Maltesi vincessero il Basilea con un po' di fatica elimina l'Osijek per 2 a 1 poi Dunais-Castreda danno Diablonek Dunais-Castreda contro Diablonek danno spettacolo di gol ma se non deve ancora arrivare l'altra 3 a 3 dopo i due tempi regolamentari e 5 a 3 per Dunais-Castreda al termine della partita dopo appunto i tempi supplementari Lo Stal del Reims elimina il Servet vincendo 1 a 0 Vi ricordo che il Servet l'anno scorso è arrivato sopra di 2 punti al Lugano Il Reims ha vinto 1 a 0 col Servet squadra francese contro squadra svizzera l'Inter ha vinto 5 a 0 con Lugano che è finito a 2 punti dal Servet questo per farvi capire tante cose E qua siamo alla partita dei Folli veramente la partita dei Matti sentisti i Matti Bacatopola Steaua Bucarest 6 a 6 dopo i tempi supplementari e 4 a 4 dopo i tempi regolamentari alla fine vince la Steaua Bucarest 5 a 4 ai calci di rigore e infine il Malmò batte 2 a 0 Lombe adesso settimana prossima ci saranno tutte le altre nuove partite si inseriranno forse anche le 6 squadre che arrivano dalla Champions e poi ci sarà no è vero si no le 8 squadre che sono state eliminate dalla Champions penso che debbano fare il preliminare anche loro e ci sarà da ridere comunque io vi saluto vi ringrazio un po' di sorprese come al solito perché se non ci sono le sorprese e non ti girano però non mi girano le scatole perché ho fatto un po' di bollettine da 2 euro così a caso perché devo dire non ho neanche seguito quello che ho fatto ho fatto così come viene di corsissima perché mi sono ricordato all'ultimo che non le avevo ancora fatte e devo dire che su 8 bollette ne ho portate a casa 5 siccome erano tutti al raddoppio qualcosina si è vinto e questa è la cosa più importante quando il calcolo finale di tutte le giocate è positivo io sono felice detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video qua hanno fatto giù 6 a 6 5 a 3 poi 1 a 0 o fanno gli 1 a 0 se no 1 a 1 1 a 5 1 a 4 3 a 1 3 a 2 2 a 3 burdel non si capisce più niente vabbè ragazzoli ci vediamo ai prossimi video ciao ciao